Ennesima denuncia della vicepresidenta del Consiglio regionale Domenico Pettinari che questa mattina ha puntato l'attenzione sulla zona delle cooperative Aternum di Pescara. Al civico 31 di via Aldomoro c'è infatti un ascensore rotto da oltre un mese. Disagi fortissimi per i residenti, tra cui disabili e anziani. Per Pettinari è inaccettabile che i cittadini paghino per il disinteresse di regione e comune. C'è chi è prigioniero in casa, perché? Sì è proprio così purtroppo, da un mese e mezzo è andato a fuoco l'ascensore, non si capisce se qualcuno ha messo fuoco accidentalmente e purtroppo qui siamo al civico 31 di via Aldomoro, un palazzo di otto piani da un mese e mezzo non possono soffrire dell'ascensore. Qui ci sono anziani, disabili, bambini, voi immaginate anziani che vivono all'ottavo piano, o disabili che vivono all'ottavo piano e non possono o più risalire a casa o prigionieri in casa. Alcuni sono dovuti andare via fuori casa in alloggi di fortuna e non sanno come fare. Ecco, questa è una situazione emergenziale. La regione Abruzzo, che è proprietaria delle case per il tramite dell'Ater, deve intervenire immediatamente. Noi siamo stati costretti a fare questa denuncia pubblica per riparare l'ascensore, sostituire l'ascensore. Questo è un palazzo che sta in una grave faticenza anche, immondizia dappertutto, sporcizia nel cortile. C'è una macchina parcheggiata qui fuori da un anno e mezzo lasciata in abbandono, le ruote completamente a terra, i cittadini hanno denunciato più volte le autorità completenti, non la vengono a togliere. Noi ci auguriamo che intervengano sicuramente anche la Polizia Municipale per togliere questa autovettura e comunque il Comune, la Regione, per ripristinare la funzionalità dell'ascensore. Se una sintesi è una situazione inaccettabile, c'è anche chi è costretto per questo motivo che ha spiegato un dovizio di particolare a dormire fuori addirittura? Sì, purtroppo sì. Ci sono due persone anziane che mi chiamano quasi tutti i giorni piangendo, dicendo noi vogliamo rientrare a casa, siamo in un alloggio di fortuna, non possiamo continuare a stare in una casa ai nostri familiari dove ci sono già tantissime persone all'interno della casa e io non so più cosa rispondere. Mi aspetto adesso dopo questa denuncia pubblica che l'Ater, la Regione, quindi ci ascolti e venga subito a riparare questo ascensore. Ecco, non si può fare solo propaganda sulle case popolari o venire qui solamente in campagna elettorale. Noi siamo qui quasi costantemente, denunciamo tutti i disservizi che ci sono. Chi comanda, chi governa ha l'onere e l'onore di risolverli.